Presidente, grazie. Io vorrei dare un contributo per conservare lo spirito laico di ingresso nel merito di cui abbiamo bisogno per definire l'istruttoria di questo provvedimento. Ricordiamoci che dovremo attivare delle procedure di gara che non sono francobolli. Le procedure di gara che si devono fare lo sapevamo dall'inizio e lo sanno tutti coloro i quali hanno una qualche idea anche da infarinatura sull'Europa, sul suo ordinamento, perché è retto su una coppia di istituti che è quello della libertà di stabilimento che genera competizione e poi l'altro istituto è la coesione, la convergenza. Poiché si devono fare le gare che non sono francobolli, noi dobbiamo sapere che servono i bandi di gara che non sono francobolli, servono gli ambiti territoriali ottimali che non sono francobolli, servono le commissioni appropriate per competenza, serve stabilire quali sono i disciplinari senza trascurare nulla del valore della realtà preesistente. Io sono in un'assemblea parlamentare dove ciascuno porta la sua grande esperienza. Anche i contatti con gli interessi corporati valgono. Un ministro della Repubblica del passato, Ornaghi, docente di scienza della politica, ha scritto un libro sugli interessi corporati che fanno la democrazia. Tenete conto che c'è una sentenza del Consiglio di Stato a sezioni riunite, relatore Patroni Griffi, che indicava la strada. Nel 2021 fate legare. Si può anche evitare di trascurare il valore delle gestioni pregresse. Si può esaltare ciò che c'è stato in precedenza. Fate legare pagina 47 della sentenza Patroni Griffi. Allora, che cos'è che io chiedo attraverso quest'atto di indirizzo? E serve l'atto di indirizzo quando si fanno gli atti complessi della pubblica amministrazione? C'è un manuale di Giuliano Amato sugli atti complessi della pubblica amministrazione che richiedono gli atti di indirizzo. Che cos'è che chiedo qui? Sappiate che gli enti concedenti non sono ovunque i comuni. Sono anche le articolazioni dell'Agenzia del demanio dello Stato. E non perché io ritenga il demanio dello Stato salvifico. C'è una procedura del demanio dello Stato che conta 114 anni di istruttoria. Chioggia, le terre da definirsi per Chioggia da parte di coloro i quali hanno occupato, a seguito di concessione, le terre di Chioggia. Allora si chiede con questo atto di indirizzo. Rendete possibile l'aiuto da parte delle regioni nei confronti di comuni, demanio e anche da parte, consentitemi, di quelle strutture dello Stato che possono aiutare le autorità di sistema, le autorità portuali, perché vedrete come non sarà un francobollo attivare le procedure. Siamo capitati in una trappola tra le promesse di proroghe, lo sfiancamento economico e finanziario di chi conduce quelle attività e oggi la nullità di certezza di riferimenti normativi. Attenzione che anche sul PNRR tutto era semplice. Poi abbiamo dovuto fare un bombardamento di emendamenti. Sembravamo assessori di un Consiglio comunale ogni due mesi a fare emendamenti. Allora la norma deve essere prefigurata, generale, astratta per incanalare procedure amministrative. Spero che vogliate rivedere il vostro parere.